Teiera Giorgio Terzo, Londra 1813, eccola qui, e quindi un bracciale da 54 grammi, bracciale molto bello, ecco la teiera. Giovanna Tarantelli? E lei che sarebbe? Una teiera giorgiana, molto grande, una teiera stupenda da ammigare, attenzione un cepello simile. Ma quello che è? Dice che hai un contratto con lui che se vuole portarti caso. Allora, Ruggio, stai attento, eh? Così lo vedete in frontale, meravigliosa, teiera, in argento, in argento. Guarda che io più di dodici pezzi a serata non li faccio, e se li faccio come dico io? C'è una sorpresa. Leva la mano, leva la mano, e levala. Schifoso. Lo sai che della gente di Luco di Romagna vuol fare un disco dal vivo con noi? E un trucco per trattenermi? Madonna me l'ha detto, ma chi se la sente di sostituire Luana? Metti che a Gaeta mi fiscano stasera. Adio, te sei fatto più bene. Vabbè. Perché non la chiamiamo Casa dei Giochi? Così non ci viene nessuno, scemo. Lasciamo stare il nome, dai. Speriamo di riuscire a fare qualcosa qua dentro.